Henry e l'epidemia Henry vive sull'isola di Sodor da molti anni ormai È una locomotiva verde grande e forte Ed è anche molto utile Ma qualche volta è un po' fifone Ciao Henry! Oggi porto Steven e Bridget in gita con Winston Finora sono dovuti rimanere a casa perché non sono stati bene Hanno contratto la varicella La varicella? Sì, ecco perché hanno tutte quelle macchie sulla faccia Macchie? A più tardi Henry! Arrivederci signore Henry non sapeva cosa fosse la varicella Ma quella parola non gli piaceva affatto E si chiese se anche le locomotive potessero esserne contagiate Steven! Bridget! Smettetela di grattarvi! Scusami, nonnino! Ma prudono tanto! Andiamo Ci vada piano, signore Prurito Macchie Ma questa è varicella Oh, sono bloccato Oh, Thomas! Sei tutto sporco! Tranquillo, Butch È solo un po' di fango Mi farò lavare dopo aver consegnato le galline Guarda che bel treno, nonna! Henry arrivò alla stazione di Wainsworth Ma non riusciva a smettere di pensare alla varicella Oh, 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 oh Henry! Qual è il problema? Oh, Emily Ho visto i nipotini di Sir Topham Hutt Ed erano tutti pieni di macchie rosse Perché hanno preso la varicella E allora? E allora? È molto probabile che anch'io prenda la varicella Non credo che le locomotive possano prendere la varicella Tu ti preoccupi troppo Ciao, Henry! Oh, macchie! E... galline! A me fanno paura le galline E anche le locomotive possono prendere la varicella Buongiorno, Diesel! Come stai oggi? Ops! Scusa! Scusa tanto, Paxton! Devo andare! Henry stava trasportando i passeggeri Sulla linea principale E quando... Oh, buongiorno, Henry! Come stai? Ma chi è dappertutto? È la varicella! La varicella? Henry corse via dal povero Paxton Alla velocità massima che le sue ruote potevano sopportare Sballottando i suoi passeggeri Da una parte all'altra dei vagoni Stavano ridipingendo la stazione di Kelsport Road Quando ci fu un piccolo incidente con un barattolo di vernice Oh, ma che oltraggio! Aaaaaah! Varicella! Henry? Henry! Ma perché stai andando a marcia indietro? La varicella fa più paura anche dei temporali! Ma si può sapere che ti prende oggi, Harry! Harry, perché andiamo indietro? Che state facendo? Attento, Harry! Gordon! No! Fermo! Allontanati! Stai indietro! Harry, mi vuoi spiegare che cosa c'è che non va oggi? La varicella! Ah, queste locomotive! Sir Topham si stava godendo la gita fuori con i suoi nipotini e fu molto sorpreso di vedere un treno correre a marcia indietro lungo la linea principale. Si può sapere che cosa, accidenti, stai combinando? Wellsworth, ma è la stazione dove sono salito? Che, come torno a casa? Oh! Thomas! Che fine hanno fatto le macchie? Macchie? Oh! Sono andato a farmi lavare! Avevo del fango sulla faccia! E invece sono ricoperto di... di vernice! Vernice? Fango? Ma... Io pensavo... Pensavo che vi foste presi la varicella! La varicella? Le locomotive non possono prendere la varicella! Oh! La varicella è una malattia esclusivamente umana! Proprio così! Solo le persone possono prenderla! E anche per gli umani la varicella non è niente di grave, Henry! La maggior parte delle persone la prende da giovane e si rimette rapidamente! Io l'ho avuta quando ero bambino! E guarda qui che muscoli! Sono un uomo prestante! Sono il ritratto della sana e robusta Costituzione! Sta a vedere! E uno! E due! Oh! 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 Ma questo è un oltraggio! Dopo l'accaduto, Henry smise di preoccuparsi della varicella e tornò di nuovo al lavoro. Era contento di ritornare ad essere una locomotiva molto utile e decise addirittura di salutare delle galline. Buongiorno, Henry! Buongiorno, Paxton! Scusa se sono scappato via l'altro giorno. Pensavo che avessi la varicella e avevo paura di venire contagiato. Le locomotive a vapore non possono prendere la varicella. Oh! Adesso lo so, Paxton! Ma... magari i diesel possono prendere il morbillo! Eh? Il morbillo? Stavo solo scherzando, Henry! Oh, sì! Scherzavo anch'io! Toad e la balena Era una bellissima giornata assolata d'estate sull'isola di Sodor. Oliver e il vagone con frenatore, Toad, si sentivano particolarmente felici. Oh, che bello lo sognar guardando il mare E guardandolo ci piace poi ballar Il suone ti deve aver dato alla testa, Toad! Ma a questo punto, se ti va di cantare, continua pure! Può starne certo, signor Oliver! Lo farò! Una banda a marcia suona questo prom 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 E le trombe tutte insieme Ma non passò molto prima che Oliver si stancasse di sentire Toad cantare. Il mare! Quando siamo lì Noi felici siamo così Vicino al mare! Vicino al mare! Oh, cielo! Alla Great Western non c'era un tale baccano Ecco che cosa succede quando Toad è di buon umore Mi scusi, signor Duck Non volevo infastidire nessuno Lo so, Toad Ma forse sarebbe meglio se tutti facessimo il nostro lavoro in silenzio Signor Oliver! Guardi! È una balena! Non ci crederai mai, Duck! Toad dice di aver visto una balena! Non è una battuta spiritosa Ma non era una battuta! Devi essere un po' più serio, Toad Forse ti dovresti concentrare sull'essere un vagone con frenatore utile invece di cantare e fare battute Va bene, signor Oliver Non è una bellissima giornata, Toad? Lo era, signor Thomas Finché non ho visto quella... Oh, non importa Si metterebbe a ridere, lo so No, non lo farei, Toad Che c'è? Ho visto una balena sulla spiaggia della Baia di Bluff Se l'hai immaginata, Thomas Avanti, Toad! Il sole ti ha dato veramente alla testa! Oh! Oh! Toad era molto arrabbiato per il fatto che Oliver non l'avesse preso sul serio Non disse più una parola per tutto il viaggio di ritorno da Knapford Stai bene, Toad? Ad essere sinceri, sono un po' triste Prima mi ha fatto smettere di cantare Poi ha detto a Thomas che ho immaginato di aver visto quella balena Oh, scusa se sono stato scortese sul tuo canto Ma che... Ma cosa, signor Oliver? Non credo ai miei occhi C'è davvero una balena, Toad Mi dispiace di aver dubitato di te Gliel'avevo detto E una balena spiaggiata ha bisogno di aiuto Hai ragione, Toad Dobbiamo allertare subito la squadra di soccorso di Sodor Emergenza all'avvaia di Bluff Sulla pioggia È un incendio? Magari è un naufragio Il dovere chiama! Oliver e Toad aiutarono una squadra di soccorso portando acqua per mantenere la balena bagnata Cosa stanno facendo adesso? Sembra che Batch voglia spostare la balena il più vicino possibile al mare Così può nuotare via La marea è troppo bassa, signore! Harold ha ragione Non puoi spingere la balena fino a lì, Batch Non sopravvivrebbe Oh cielo Non sa nient'altro che possano fare, signor Oliver Non lo so, Toad Ma se ci fosse, lo farebbero sicuramente Oliver e Toad osservavano mentre coprivano la balena per proteggerla dal sole cocente Le furono scavate trincee intorno per mantenerla bagnata mentre Flynn e Belle le pompavano acqua sul dorso Quando la marea tornerà, la balena potrà nuotare via Ma ci potrebbero volere ore! Io credo che sarebbe più facile sollevarla e portarla fino al porto di Brandon Lì l'acqua è molto profonda e potrà nuotare libera Oh Toad, per favore lascia che la squadra di soccorso continui con il suo lavoro Andiamo? Dobbiamo riportare questi serbatoi di acqua vuoti a Knapford Intanto a Knapford, tutte le locomotive stavano parlando della balena spiaggiata Allora non te l'eri immaginata, Toad Affatto, signor Thomas Cosa c'è che non va ora? La squadra di soccorso non è lì? Sì, ma la marea è talmente bassa che temo che non faranno in tempo a salvare quella povera balena arenata Non riesco ancora a capire cosa ci sia di sbagliato nella mia idea di portarla al porto di Brandon Per tutte le caldaie bollenti Ma è un'idea davvero geniale, Toad Davvero? Signore? Signore? Toad ha un piano per salvare la balena Quale sarebbe, Toad? Eh, non so se funzionerà, signore Ma stavo pensando che se potessimo sollevare la balena e portarla al porto di Brandon potrebbe nuotare via Magari potremmo metterla su un pianale o qualcosa del genere Sir Topham pensò che l'idea di Toad fosse molto buona Telefonò subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Toad per salvare la balena Stai molto attento, Rocky Non ti preoccupare, Toad So io come fare Oh, la balena sembra molto triste e stanca Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno Oh, davvero? Ma anche a me piace tanto cantare Oh, aspetti, signor Oliver Ci siamo quasi So che tu vuoi tornare dentro l'acqua So che tu vuoi tornare dentro al mar Sei sicuro che funzionerà, Toad? Oh, sì, signor Oliver Alle balene piace cantare So che tornerai dove i pesci fanno chaff, chaff, chaff Tutto il giorno, tutto il giorno Mentre Oliver e Toad smuffavano lentamente verso il porto di Brandham Tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena Ma che mi venga un colpo Sarebbe una balena, quella? Sì, Crenky Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio Ora ti saluto Spero che ritroverai la tua famiglia Oh, no! Non riesco a vederla, signor Oliver Eccola lì! Sta bene, Toad Grazie a te Da quel giorno in poi Ogni volta che Toad passava la baia di Bluff Ricordava la sua cara amica Con una canzone So che lei è tornata dentro l'acqua So che lei è tornata dentro al mar Ora che è di nuovo lì Il suo cuore potrà gioir In alto mar potrà cantar Pecore molto preziose Era una bellissima serata di primavera Sull'isola di Sodor E Sir Topham era andato a trovare le sue locomotive Al deposito di Tidmouth Aspetta un momento, Percy Sì, signore Buonasera, signore C'è una cosa molto importante Che ho dimenticato di dirvi Domani si terrà la fiera di primavera A Maitwight Quindi, Thomas Vorrei che tu trasportassi i visitatori Fino a Maitwight Insieme ad Annie e Clarabel E Percy Ho bisogno che tu vada alla fattoria del signor McCall A prendere gli agnellini e le pecore per la fiera Perfetto, signore No, per la fiera Sono pecore molto preziose, Percy E il signor McCall vorrebbe che arrivassero di primo mattino Non si preoccupi, signore Sarà la prima cosa che farò domani Subito dopo aver consegnato la posta Ah, molto bene Ma la mattina seguente Percy era molto in ritardo Va tutto bene, Percy? Ci ho messo troppo tempo a consegnare la posta Devo ancora caricare l'acqua per andare alla fattoria del signor McCall Oh no! Quanta fila c'è oggi? Per favore, Gordon Posso passare avanti? Vado di fretta Devo andare a prendere delle pecore molto preziose E portarle alla fiera di primavera Oh! Oh! Delle pecore molto preziose Il treno espresso è molto più prezioso di qualsiasi pecora Sono stato chiaro? Oh cielo! Dovrò caricare l'acqua più tardi E devo ancora andare a prendere il vagone Così Percy si affrettò ad andare a prendere il vagone per il bestiame Ma non aveva ancora caricato una goccia d'acqua Vado di fretta Vado di fretta Vado di fretta Fermo! Percy! Aspetta! E non prese con sé neanche il vagone frenatore Percy arrivò alla fattoria del signor McCall E caricò le preziosissime pecore Era davvero in ritardo Ma non poteva viaggiare ad alta velocità con gli animali a bordo Ce l'ha mise tutta per recuperare il tempo perso Finalmente posso caricare un po' d'acqua Devo sbrigarmi Pecore molto preziosi in arrivo! Buongiorno Percy! È davvero un buongiorno! Percy non si rendeva conto Ma ogni volta che si fermava o rallentava Una o due pecore scappavano dal carro bestiame Buongiorno è un buongiorno! Poco tempo dopo, sulla stessa linea Thomas stava portando i passeggeri alla fiera Ma poi ci fu un problema Vagoni sferraglianti? Si può sapere che sta succedendo, Thomas? C'è un agnellino sui binari Un agnellino? E adesso cosa pensate di farci? Aspetta un momento, io non posso portare un agnello Pensa alla mia povera tappezzeria Guarda, mamma, un agnellino! Che carino! Non possiamo lasciarlo qui, Annie? E poi è così piccolo Beh, va bene, in fondo è solo un cucciolo Mi hai convinto È questo lo spirito giusto, cara? Tutti quanti devono fare dei sacrifici in caso di necessità Cosa stai facendo, Thomas? Non dirmi che ce n'è un altro E invece è così E credo che dovremo far salire anche questa Oh, eccone un'altra Ciao, chi sei tu? Questa è la mamma pecora Thomas partì di nuovo Ma dopo aver fatto pochi chilometri, all'improvviso... Non mi dire che è un'altra pecora Temo proprio di sì, Annie Non capisco da dove spuntino fuori Ma dobbiamo farle salire È troppo pericoloso lasciarle sui binari Beh, spero proprio che questa sia l'ultima che troviamo, Thomas Ma non era affatto l'ultima C'erano molte altre pecorelle smarrite ancora da salvare E ormai su Annie non c'era abbastanza spazio per portare sia pecore che passeggeri Quindi tutti i visitatori della fiera dovettero salire su Clarabel Anche se neanche lei aveva molto spazio a disposizione Ma si può sapere da dove arrivano questi animali? E Percy? Ho bisogno che tu vada alla fattoria dei McCall A prendere gli agnellini e le pecore per la fiera Ah, ho capito Devono essere le pecore che Percy stava portando alla fiera Eccolo che arriva ed è in perfetto orario Sono andato molto piano e sono stato molto attento, signor McCall Ma come? Il vagone è vuoto Vuoto? Sì, Percy Dove sono andate a finire le mie preziosi pecore? Oh no Thomas stava correndo verso la fiera per trovare Percy Portando con sé delle pecore molto contente E dei passeggeri molto scontenti Non riesco a capire cosa sia successo Erano tutti al sicuro sul vagone quando ha lasciato la fattoria C'è un buco sul retro di questo carro bestiame Oh no Devo averlo fatto allo scalo di smistamento Mi dispiace, signor McCall Ero così preoccupato per il ritardo che... Percy! Signor McCall! Thomas! Santo cielo! Oh cielo! Le mie preziosissime pecore sono qui Oh, Thomas! Grazie! Penso che queste siano tue Te le ho riportate non appena l'ho capito Ti ringrazio, Thomas Sono scappate dal mio vagone Stanno tutte bene? Sono state molto comode, Percy Hanno viaggiato in grande stile Questo è poco, ma sicuro Spero proprio di non dover più trasportare del bestiame in vita mia Oh cielo! Solti il marinaio Il porto di Brenda di solito è un posto molto trafficato Solti e Porter sono sempre con le ruote in movimento E il gancio di Crenky non smette mai di oscillare Ma a volte è completamente deserto Il che dà a Solti l'occasione di raccontare una delle sue storie Ah, marinaio! Il porto sembra tranquillo oggi! Troppo tranquillo per i miei gusti! Ha ha ha! Era un giorno proprio come questo Quando il calamaro gigante di Sodor è apparso per la prima volta! Ha 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 ha! Ah, bene! Eccolo che ricomincia! Era davvero enorme! Aveva occhi grandi come le ruote di un diesel e i tentacoli Ciao Porter! Ciao Solti! Ah, come va Thomas? Stavo giusto raccontando al giovane Porter qui Del calamaro gigante del mare di Sodor! Ah, Solti! Ho un compito davvero molto speciale per te Oh! Speciale? Per me? E che lavoro è? C'è un cantiere navale sulla terraferma che è molto trafficato Sono a corto di locomotive e hanno bisogno di te Signor sì! Sarò molto felice di unirmi alla ciurma! Però il ponte di Vicarstown è in riparazione Quindi dovrai viaggiare fino alla terraferma per mare Per mare? Sei contento, vero Solti? Ah, beh, io, io! C'è così tanto da fare qui, capitano? Il caos potrebbe scatenarsi da un momento all'altro? Sono sicuro che Porter ce la può fare Ah, va bene, va bene Signor sì, ma io veramente! Oh, fermati! Stiamo aspettando che Edward ci porti a Wellsworth! Visto quanto sono occupato! Oh, occupato, occupato, occupato! Mi dispiace, Solti, ma è già tutto deciso C'è molto più da fare sulla terraferma che qui Bene, Cranky! Mi hanno detto che questa nave va sulla terraferma Stai pronto a imbarcare Solti, per favore? Con vero piacere! Ma dov'è finito Solti? Oh, Solti? Qual è il problema, Solti? Sembra spaventato! State zitti lì dietro! Non riesco a trovarlo, signore Dove sarà andato? Sciocchino di un diesel fanfarone Buongiorno a tutti! Ehi, dove sono i miei vagoni? Non così veloci, Solti! Rallenta! Dove ci stai portando? A Wellsworth, naturalmente! Solti consegnò i vagoni alla stazione di Wellsworth Ma non aveva nessuna voglia di tornare al porto Adesso devo trovare assolutamente un altro modo per tenermi occupato Ma non è possibile! Ma che seccatura! È possibile che sia così in ritardo! Scusate il ritardo, ma... Non c'è nessuno qui! I tuoi passeggeri se ne sono andati! Andati? Ma chi può averli presi al posto mio? Solti stava portando i passeggeri di Thomas a Knapford In un vecchio vagone che aveva trovato nel piazzale Thomas si affrettò per raggiungerlo Solti, che ci fai tu qui? Non dovresti essere al porto a smistare vagoni a quest'ora? Sì, trasportare passeggeri non fa per te È una lunga storia E dovrà aspettare Qualcuno di voi per caso ha visto Solti? Andiamo! A cielo! Solti! Fermati! Solti non sapeva più cosa fare a quel punto Ma sapeva che non aveva alcuna intenzione di tornare al porto Solti! Solti! Ma che ci fai nascosto qui? Sir Topham ti ha scelto per un lavoro speciale sulla terraferma Pensavo che saresti stato felice Ma il problema è proprio arrivare sulla terraferma Non so se mi spiego Ma sarai già andato per mare prima d'ora Centinaia di volte Sì, il fatto è che io non sono mai stato su una nave in vita mia Non sei mai stato su una nave? No Ci sono pericoli diavolici che si rascondono in mare Calamari giganti Terrificanti serpenti marini Thomas, mostri acquatici Dai denti affilati Sei sicuro che tutte queste storie siano vere? Ma certo che lo sono Non sai quanti racconti terrificanti si sentono ogni giorno giù al porto Non te lo immagini Ma non sei tu a inventarti tutte quelle storie, Solti? Beh, potrei aver fantasticato su un paio di quegli strani racconti Ma il divertimento è proprio quello, sai? Ti ricordi quella volta che ci hai spaventato tutti quanti Con la storia dei pianali della paura? Oh, sì La storia dei pianali della paura Che mi dici del mostro di Brandon? Oh, quella me l'ero dimenticata E poi il vagone con frenatore fantasma Ah, beh Magari è vero che lascio che la mia immaginazione corra un po' troppo certe volte E magari è la tua immaginazione che ti fa credere che andare per mare sia spaventoso Sono sicuro che un viaggetto sulla terraferma non può essere così male, Solti L'indomani mattina, Solti tornò di buon'ora al porto di Brandon E lasciò che Crenchi lo caricasse sulla nave Ben fatto, Solti! Lavoro soldo sulla terraferma! Ci vediamo presto! Io non ne sarei tanto sicuro Non c'è niente da temere Niente da temere Niente da temere Niente da temere! Bon voyage! Fai buon viaggio! Non c'è niente da temere Niente calamari Né serpenti E neanche mostri marini dai denti affilati Oh, niente? Non è poi così male? Allora, passare la vita sulla cresta dell'onda Non è una cosa così spaventosa, dopo tutto! Qualche settimana più tardi Al termine del lavoro sulla terraferma Solti tornò al porto di Brandon Eccoti qui, Solti! Bentornato all'asciutto, caro mio! Com'è andata, Solti? Ti sei goduto la tua prima volta per mare? Ah, beh, non è stato un viaggio tranquillo, marinaio Mari in tempesta Terrificanti mostri marini Onde spaventose alte come montagne altissime Ah, bene, eccolo che ricomincia Quali grandi come transatlantici Terrificanti mulinelli Per non parlare della piovra mangialocomotive Grazie a tutti!